buon pomeriggio e benvenuti a questo quarto appuntamento di tff doc desiderio siamo contenti oggi di presentare un dittico di insomma due film fatti entrambi da due persone a cui il festival è molto legato e affezionato una delle due qui ed è una rimane mari che ci presenta holy days e mauro herse invece di lonely rivers non è potuto venire ci ha mandato un messaggio che adesso vi leggo l'ho tradotto cari spettatori è un grande piacere onore che il mio film sia presentato oggi al festival di torino grazie a un così eccellente programma e agli amici che l'hanno invitato molte grazie al festival per accogliermi nuovamente spero che il film vi piaccia colori quali hanno visto il mio film precedente dead slow head troveranno in lonely rivers un infinito gioco di corrispondenze gli stessi temi e motivi trattati dal punto di vista opposto per colori quali non lo hanno visto e non sono nulla vi lascio il giallo di scoprire dove siamo e di che cosa si tratta molte grazie a tutti mauro e allora al termine dei due film nariman dialogherà insieme a davide insieme a laura cerboni che abbiamo invitato per parlare di poesia legata a questo film buona visione io volevo dire ringrazio veramente a voi tutti qui avete scoperto il film e che l'avano miso con il film magnifico e l'unico river che mi ha molto molto touchato veramente profondamente quindi c'è geniale c'è c'è molto osato e anche c'è delle composizioni che non sono semplici né per lui né per me e in effetti c'è sa a point j'espère qu'il l'ora c'è passiva si l'avano film sarà bien lui envoyer voilà sa me sa me touche beaucoup qu'on soit ensemble dans cette histoire grazie a vous donc merci a tutti infatti la prima idee de sa se de paulato ringraziamo in particolare paola e tutta la selezione di questa sezione del festival per aver abbinato i due film non le rivers è un film che mi ha veramente toccato moltissimo si tratta di due composizioni non semplici e non so se ha visto il mio film bisognerebbe comunque mandarglielo ma grazie davvero di questa scelta e siamo ancora un po emozionati questo programma un po il forse anche rivedendolo in sala e forse un po la 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 il pol manifesto di quello che abbiamo tentato di fare con con il focus sul desiderio perché sono due film molto molto semplici che 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 assumono il che assumono la distanza che 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 costitutiva del desiderio la distanza e l'assenza la distanza da 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 chi desidera e e e e e e l'assenza di ciò e chi e desiderato e e quando abbiamo immaginato l'incontro dopo il film abbiamo pensato che forse questi due film erano quelli più vicini a un altro dei temi che che ha un po attraversato la nostra selezione che è quello della poesia perché erano perché assumevano giustamente non tentano con le immagini con i suoni che sono la parte costitutiva dei due film di colmare quell'assenza ma di renderla quasi concreta fisica e e abbiamo pensato di provare a coinvolgere in questa nostro in questa nostra avventura una poetessa una persona che con con quella distanza lavorasse con le parole e grazie ad annanadotti che non so se ancora qua no ci ha lasciato ma è stata lei che ci ha suggerito laura cerboni e abbiamo letto a sei lì perché eri seduta più su non ti vedevo più hanno adotti grazie e laura è qua con me faccio faccio un po di di pubblicità come vedete laura è molto giovane però ha già due raccolte di poesie pubblicate e ci tengo a segnalarle sono attorno a ciò che non è stato edizione del leone 2010 e la parte dell'annegato nottetempo 2015 adesso la smetto e chiedo a laura un po di di raccontarci anche come è stata la sua esperienza con i due film allora parto con inizio con qualche osservazione sul sul film holidays un grande coniglio muto decide che cosa è fatto di buio e che cosa in più si fa buio e questi sono stati i primi versi a cui ho pensato guardando il il film probabilmente per per il suo nero che che torna verticale aperto la scena descritta dal poeta cieco john scatchel scusate la la pronuncia si svolge su una riva di trifogli il trifoglio è una pianta che mi rimanda soprattutto all'assenza non tanto alla fortuna per riprendere un verso di mariangela gualtieri un lato vuoto però forse questa questa lettura questa interpretazione nasce da una poesia di guido gozzano la via del rifugio che tanto amo in cui il poeta si trova sdraiato su un trifoglio e dice vedo un quadrifoglio che non raccoglierò e decide di non raccoglierlo non tanto per una rinuncia o per contemplazione ma proprio per preservare per salvare lui scrive mantenere intatto un qualche desiderio se nel film holidays l'uomo scava la propria fossa se inevitabilmente rientra in ciò che si fa buio ecco che il lato mancante dell'erba questo spazio aperto permette la spinta contraria il desiderio e il coniglio muto allora canta inizia e rafforza il canto dell'uomo antonella nedda in una sua poesia tratta dal balcone del corpo chiede che faccio con le parole coro le premo l'una contro l'altra come fossero mani e questo proprio questo sembra avvenire nel film si forma un coro di mani zampe pelli un canto che preme le parole di ogni specie animale e vegetale fino a creare una strana preghiera una poesia di cui anche lo spettatore e la spettatrice si trovano a far parte whitman incanto di me stesso scrive gli animali mi mostrano quale sia il loro rapporto con me e qui ho subito pensato all'asino mi portano frammenti di me stesso ne ostentano il possesso più completo mi chiedo dove abbiano preso quei frammenti sono forse passato per quella strada tantissimo tempo fa e sbadato li ho lasciati cadere e si sembra suggerire holidays antichissimi siamo passati per questo canto e però non sappiamo quali frammenti effettivamente abbiamo perso e quali invece abbiamo semplicemente raccolto dimenticandoci l'appartenenza anche se qui ci troviamo una forma completamente diversa mi è venuta in mente un'intervista di di calorrama che parlando della necessità di scomporre e ricomporre il soggetto in altra forma dice scelgo cose che soffrono di essere così per le quali non ci sono rimedi ecco allora davanti al gesto dell'uomo il mulo le galline tutti gli elementi intervenire e ricreare senza però lo strappo che è presente nell'opera di rama ma con grande naturalezza e grande fluidità il film di narimane va sulla riva di trifogli e ci fa ascoltare l'aperto sempre dal balcone del corpo di antonella nedda lascia che dicano noi noi viviamo per schegge che spostandosi frantumano l'io e il voi e il più delle volte lasciano soltanto il paesaggio ecco allora che che l'uomo alla fine entra nella propria fossa il grande comiglio muto decide che cosa si è fatto nero però l'erba incompleta resta in attesa del prossimo canto queste sono state le osservazioni nate guardando il film ma devo dire che già oggi riguardandolo in in sala tante altre forse erano le vie percorribili oltre a queste riflessioni ho scritto qualche qualche verso che provo a leggervi il mulo non risponde perché continui a chiamare di giorno quando le linee sono tutte illuminate e c'è così tanto abisso da lavorare che non sia proprio il tempo avevo le mani più belle quando le piume mi stavano in bocca e non c'era niente da vedere sotto il grano spiava l'erba a quelle prossime allo sgozzo passo il tempo a intrecciare zampe le galline lasciano sempre qualche spazio aperto come se dopo la morte si potesse riempire di terra il becco il mulo quando ritorna ha il vuoto sul dorso scende fino agli zoccoli se lo raccogli poi non toccare gli occhi c'era così tanto nero nella pelle del toro che non vedevo più nulla la strada di casa era un passo dalla pancia ma la nel fianco indicava un'altra direzione grazie Grazie. Grazie. Posso fare una domanda? Nel film ci sono alcune inquadrature oblique che ho trovato estremamente intense. Il cielo iniziale, il movimento dell'uomo che scava, il muso del mulo. E ho avuto la sensazione di trovarmi davanti a uno sguardo sghembo, che poi è proprio della poesia. E Emily Dickinson diceva di tutta la verità, ma di l'obliqua. E allora volevo chiederti di questo sguardo, se c'è. C'è un'altra cosa? C'è un'altra cosa? e che vediamo cosa e se posa la camera, non lo faccio, quindi dovete essere obliquo tutte le se. Non ne ho messo di lavoro, non ne ho se questione come dove dobbiamo mettere la camera, non ne ho. Ho quello che abbiamo già immaginato, o non ne ho. E invece questa forma di lavorare, in cui non ho voluto cambiare, non ho voluto più pensare, quel che sia il tipo di film che fai, construito o non costruito. Ci fa parte di mio piacere di vedere questa faccia di modo semplice e spontanea di vedere e anche di vedere quando ti posi la camera come questa ciò che viene senza che l'ai determinato anche. Non solo al livello del quadro ma ciò che entra a l'interno. Perché qualchefora tu sai quel elemento principale tu veux voir e poi finalmente tu hai d'autres elementi che rentrano in giù e ci saranno super heureux perché c'è come dei cadeaux che tu avessi n'avessi mai prevato. J'imagine le cose come questo sul piacere che ho io a fare i film c'est-à-dire che moi-même ho mesi cadeaux per le tournage. In realtà sono io che faccio l'inquadratore dei miei film e devo dire che non rifletto e non calcolo a priori come inquadrerò determinate scene. È vero che in un certo modo di fare cinema le scene si determinano da sole e la posizione della macchina da presa per me avviene in modo naturale e una volta che trova come se trovasse da sola la sua posizione non la sposto mai. Non cerco delle ragioni né mi pongo delle domande su dove è giusto posizionare la macchina da presa. Mi lascio andare a un istinto e a un'immaginazione. In questo modo di lavorare che appunto non prevede alcun tipo di riflessione logica io trovo una parte del piacere di fare un film che equivale anche a una scoperta e alla possibilità di avere uno sguardo perché quando metto appunto la macchina da presa in un determinato modo così perché mi viene da metterla lì so grosso modo che cosa avverrà ma entra all'interno dell'inquadratura oltre all'elemento principale che posso immaginare quello che sarà anche una componente imprevista ci sono anche altri elementi e il mio piacere risiede proprio in questo. Mi approfitto della domanda di Laura perché forse mi faceva piacere continuare a riflettere con te su come hai costruito il linguaggio di questo film. c'è un aspetto quasi primitivo di costruzione dell'immagine e c'è anche un aspetto che un po' ossessioni nostre ricorda un po' il cinema di Rossellini anche cioè l'idea di provare a mettere di porre la cinepresa e provare a capire cosa succede davanti alla cinepresa e volevo capire anche rispetto a questo vedere cosa succede che sorprese ti dà ciò che succede davanti alla cinepresa volevo capire anche come hai lavorato con i personaggi uomini e animali del film i personaggi uomini e animali del film i film e Yoda e... 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 c'è per... 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 io le raconte ciò che ciò che stiamo cercando ciò che viviamo insieme e finalmente non ho io uso molto questo moto perché mi fa sentire c'è per non ho questa cosa non ho non ho ne dirige le cose e le cose c'è come se si dicevole on ha una table c'è 4 bouteilles ce serait bien qu'à la fin di nostra discussion le bouteilles se siano rassemblate quindi per il gesto che vuole on le mette a un endroit e vedo ce che ci ha donne e quelle forme on va fare a l'affaire disons che per simplificare c'est presque questo sauf che là il s'agit d'emotione il s'agit là come tu dis de desir de mort d'abstinence donc c'était un peu ça les sujets mais il faut pas que ce il faut pas que ces termes là deviennent le le moteur du film c'est vraiment chaque scène appelle à ce qu'on moi j'aime beaucoup la scène quand il rentre en transe et là par exemple je lui dis imagine que en fait t'es tellement touché que tu es pincé de l'intérieur tu vois et je le laisse chercher sa façon d'être pincé de l'intérieur quand on a de la douleur parce que je trouve que quand on a de la douleur on a l'impression qu'on est torturé par dedans tu vois et en fait je laisse vraiment faire après des très courtes discussions on parle très très peu finalement mais il n'y a pas de direction comme ça parce que comme c'est pas des films faciles on va dire même s'ils sont très simples à faire pour des êtres humains ou pour des animaux et j'ai trouvé comment faire bander un âne quand même il suffit juste de le caresser sur l'épaule tu vois c'est ça c'est plus simple qu'avec un arbre peut-être je sais pas et du coup ouais je sais plus ce que je disais Fit voilà il in réalité in linee generale anche quando scrivo e non è stato il caso di esto progetto non mostro mai quello che scrivo agli altri è un po' come si lo scrivess per me perché ho in mente il soggetto che ho voglia di esplorare e si rivela poi naturalmente mentre lavoro al film, ma io comincio a vederlo esistere già prima. Quando poi andiamo sul luogo dove gireremo, a quel punto quando sono lì, racconto agli esseri e agli animali presenti che cosa cerco. Ma è un tipo di racconto molto lontano da un termine che mi fa grande paura, che è il determinismo. Nel senso che da parte mia non c'è nessun tentativo di dirigere esseri viventi e cose. E' un po' come per fare un esempio banale, io dicessi, ok, qui c'è una tavola, ci sono quattro bottiglie, alla fine queste quattro bottiglie devono essere raggruppate. Ognuno trovi il modo per creare questo movimento che farà sì e vedremo in che forma che alla fine le bottiglie siano insieme. Ecco, è questa la mia idea di fare un film. E da questo modo di lavorare per me nasce appunto l'emozione, il desiderio, la morte, l'astinenza, emergono questi sentimenti e questi temi. Ma in realtà non sono questi i termini che poi mi spingono e non sono il motore del film stesso. In realtà il modo che ho appunto di lavorare con gli attori è contrario a una vera e propria direzione, li lascio così liberi di essere e di fare le cose. Ho amato moltissimo la scena in cui l'uomo è in trans, mi ha profondamente commosso come lui è riuscito a rendere questa trans e io l'indicazione che gli ho dato è stata semplicemente di pensare, di sentire un'intensità di emozione quasi dolorosa dall'interno. Non è un pizzico, non è un pizzico, un pizzico. In realtà il movimento della dolore deve si déplacare, non è un solo androio, bisogna che si abiti l'ensemble dell'interno. Sì, è un movimento che è come se faccia eco nel nostro corpo, che è una sollecitazione, un pizzico, un pizzicotto, che crea quindi un riverbero interiore, una sensazione di dolore che si riverbera in tutto il corpo. Quindi lo scambio che io ho con queste persone è veramente limitato a pochissime parole, dico poche cose e ho appunto anche imparato come si provoca un'erezione in un asino, è sufficiente accarezzargli la spalla. Sì, tu mi domandai anche, par rapporto a quello che avevo perduto in route, c'è che, non è così facile di lavorare di questa forma con persone, ma quando ti faccio il tuo casting, che è molto più di persone che tu incontri come così, ci sono così attorno di te. Il y a di la ricerca, c'è molto la Rue che mi appello. In fatto, quando ti pari su questo genere di storia, che sia questo che tu conosci il Fort des Fous e tutto questo, quando ti metti l'enjeu del tema, ci sono qui vanno e savento che tutto va se giocare là-dessus. Quindi, in fatto, tutto il mondo è d'accordo per andare a vedere come lui-même, ce che io adoro che S.A. ha detto, c'è che quando io gli dice qualcosa, il voyia bene ciò che io volevo, ma ciò che lui l'a detto par rapporto a ciò che volevo, ciò che è successivamente rare. E, in fatto, il si questionnava su sua propria verità in tutto questo. E, in fatto, sono dei momenti magnifici, perché, in fatto, ho un'ereo umano perfettamente abitato per le sue emozioni, per la sua propria percezione di ciò che è. Tu parli di desideri a molti endroiti, con diversi autori, e lui mi dà la sua parte, quindi, ciò che fa qualcosa di molto bello e, finalmente, di comune, di cambiare, tu vois. E, quando scelgo gli interpreti, le persone con cui lavorerò nei miei film, è un modo di lavorare, appunto, apparentemente semplice, poi, forse, tanto semplice non è. Le persone che saranno nei miei film, io le cerco attorno a me, amo molto incontrarle per la strada, ma sanno le persone, nel momento in cui faccio una proposta, perché lavorino nei miei film, che cosa io sto cercando. E, quindi, chi accetta di lavorare con me sa quello che io cerco, quello che io voglio, come è stato il caso dell'interprete di questo film, e la capacità che mostrano è quella di mettere il loro modo di sentire quello che io sto cercando o che voglio che emerga. E, quindi, a proposito dell'intensione, la necessità del desiderio, delle emozioni, delle percezioni, è anche il contributo che ciascuno dà rispetto al proprio sentire, alla capacità che ha di condividerlo. a questo proposito, prima conversavamo fra di noi, e c'è, io devo ringraziare entrambe, perché sia il film di Narimane, e anche il film di Mauro fa questo, secondo me, anche come Laura scrive le sue poesie e crea le sue poesie. Sono delle opere che lasciano completa libertà a chi le guarda e a chi le ascolta, ed esattamente questo, quello che abbiamo un po' cercato di fare con questi due film, cioè di creare uno spazio in cui chi è in sala e chi ascolta anche poi le parole di Laura, riuscisse ad abitare l'assenza, cioè fosse libero di abitare in un modo che più gli sembra sensato, l'assenza, un po' come il modo in cui tu lasci che le persone che lavorano con te abitino il tuo film. C'è Adé che mi ha detto una cosa magnifica, perché io credo che questo viene anche da questo... Io ero molto impressionante per lui, perché il aveva una capacità di... Il savaito delle cose, il savaito delle cose, su l'an, su il tempo, su le... Par esempio, il y a una scena dove quando io le faccio e io da, tu vois, come tu vienes di lungo, io gli ho detto, tu hai passato un tempo a le cercher, quindi tu sei un po' nervi, e in fatto, il ha messo su il chemin, il faut sapere che c'è un maçon, ce mec, il ha messo su il chemin dei tuili che tombati del toit per se destabilisere. Je n'ai rien demandé, c'è un'idea come idea, tu vois. E in fatto, un soir, on était come so insieme e io gli ho detto, veramente, tu mi impressioni, perché veramente, il è impressionante. Il ha gli yeux partout, gli orelli partout, io adoro ça, niente, niente lui échappo, ma non come qualcuno che vuole s'agrippare a tutto, tu vois. E in più, non ne parla la même lingua, tu vois, io parlo l'algiriano, ma non kaby, lui non parla molto francese, e io gli explico ce che io sento, e poi mi dice, il faut être présent. Et c'est ça, habiter quelque chose, c'est savoir l'entendre, l'écouter, y trouver sa place, comprendre que d'autres ont une place, tu vois, c'est ça, habiter, en fait, tu vois. Ce côté, il faut être présent, est génial, quand il me l'a sorti, j'étais un peu bouleversée, j'étais là. In questo senso, Sadie mi ha veramente detto una cosa magnifica, quando mi ha detto che bisogna apprendere la capacità di trovare l'anima e il tempo, e nella scena in cui va a cercare, appunto, Yoda, lui deve mostrare che arriva da lontano, che ha fatto una lunga strada, c'è da dire che lui è muratore, e ha avuto l'idea per rendere una camminata in qualche modo un po' claudicante, un po' affaticata, un po' destabilizzata, di cospargere il suo percorso con delle tegole che lo facessero un po' ondeggiare, ed è assolutamente geniale come idea, e dimostra, appunto, la sua capacità di essere con gli occhi e con le orecchie molto presente nella situazione, lui vede e sente ogni cosa, nulla gli sfugge, ed è una capacità assolutamente intuitiva che va al di là dello scambio linguistico fra di noi, io peraltro parlo algerino ma non della cabiglia, e lui conosce poco il francese, ma riesce veramente a essere sempre presente in quell'attimo, ed è questo abitare gli spazi o abitare le cose. Facciamo un passo indietro, so che Laura anche ha pensato, ha avuto delle riflessioni su non il river, proviamo a tornare in mare. Ci sono proprio degli spunti, anche qui il canto in qualche modo è centrale, in questo caso anche i cantanti. Il film si svolge in un ambiente ristretto, sulle pareti vediamo i cartelli sulla sicurezza, sul lavoro, e poi il mare che è immediatamente suggerito da un quadro, però è un altro mare, è un mare quasi idilliaco con piccole barche a vele, e poi da uno schermo televisivo, uno screensaver dove nuota un pesce. In questa stanza il tempo sembra rinchiuso, rinchiuso dentro le sillabe delle canzoni che si susseguono da consumare una dopo l'altra, e qui ho pensato ad alcuni versi di Gabriele Frasca, un poeta contemporaneo, dove sembra esserci lo stesso flusso che gira, gira, però a vuoto. La leggo. Alzati, apri la porta e dopo chiudila, aprila e ancora chiudila, ma quante volte, ma quante ancora e quanto grande il numero degli attimi, dei nudi minuti, ore che spoglia, caso inutili, andarono chiudendo, aprendo, vennero affrante o solite contale, muti calcoli di chi aprì, di chi trattenne un istante la porta e poi finisce, poi finisce che non apri più, non chiudi più e poi finisce che tu stai lì fermo alla porta e poi finisce. Il tempo sembra incastrato, si dibatte, ma resta fermo e verso la fine del film scopriamo che siamo su una nave da carico e ho trovato sorprendente la semplicità e l'efficacia con cui il regista ci mostra da un lato la lentezza antichissima di chi naviga seppur su una nave ultra automatizzata e dall'altra invece la velocità a cui è destinata la merce che si sta trasportando, la rapidità di acquisto e consumo. Kafka in un suo breve scritto sulle sirene dice che ancora più pericoloso del canto è il loro silenzio e racconta che al passaggio di Ulisse probabilmente le sirene non stavano cantando affatto però lui è completamente impegnato negli espedienti che ha trovato per non cedere con cera e catene e quindi non sente il silenzio delle sirene però Kafka effettivamente ricorda che Ulisse era un uomo straordinariamente astuto e scrive può darsi benché non riesca comprensibile la mente umana che realmente si sia accordo che le sirene tacevano e non certo qual modo abbia posto come uno scudo a loro e agli dèi la finzione qui al silenzio delle sirene sembra opporsi il canto di Elvis di Robbie Williams di Tom Jones e anche le merci gli oggetti i cibi i materiali che tanto desideriamo e che consumiamo e aspettiamo per un lasso di tempo brevissimo hanno il compito proprio come il canto ma non delle sirene di tenerci fermi sulla riva una riva come quella descritta da Gabriele Frasca quindi claustrofobica desidero però chiudere con un'apertura un testo di una poeta brasiliana Cecilia Mareles che sembra inserirsi nel finale del film quando il canto si ferma all'improvviso anche se poi riprende e poi invece a chiusura quando ci troviamo davanti il mare e forse anche il silenzio delle sirene e in qualche modo mi ha ricordato anche il rumore dell'acqua e delle onde che è presente nel centro del film Holiday Days le navi passano per le mie finestre come il sangue nelle mie vene come piccoli pesci nei fiumi non hanno vele e hanno vele e il mare ha e non ha sirene e io navigo e sto ferma vedo mondi e sono cieca perché questo è un male di famiglia essere di sabbia di acqua di isola e persino senza barca naviga che al mare è stata destinata che Dio ti protegga Cecilia che tutto è mare e niente più grazie a voi prego se avete commenti domande prima giocavamo a pranzo io volevo ringraziare la regista presente e anche il regista assente e la poeta e Davide Oberto perché una cosa volevo dire in questi due film che avete molto opportunamente accostato è vero che si sente l'assenza però è un'assenza piena di presenza io trovo che c'è un costante rimando a un'interiorità che si esprime nel canto o nei modi diversi del secondo film e poi io questo forse è una visione molto personale appena inizia il film La Unirevers dopo due minuti sarà che io amo la letteratura di mare si capisce subito che sono in una nave che sono in un'imbarcazione che sono sul mare perché c'è fra loro in queste loro solitudini cantanti c'è fra loro una una grande mi venivano in mente i lascari che battono quei lontani mari queste ciurme fatte di persone di vari luoghi questi non sono tutti appartenenti provenienti dallo stesso luogo e cantano in questo Rotten English che è una lingua totalmente loro che appartiene a loro e danno un canto che è un canto non so se delle sirene certo è il canto dei pesci questo volevo dire grazie grazie ci sono altri commenti io ringrazio Laura Cerboni Nariman Mari Anna Ribotta grazie a tutti Paolo e Massimo grazie grazie a tutti